Rifiuti, tra cui scarti di lavorazione e vili, cemento indurito, materiale elettrico. Davanti alla porta di casa di Stefano, un residente del quartiere Maristella di Cremona, c'è spesso una sorta di discarica, materiali non smaltiti correttamente, che vanno quindi ad inquinare l'ambiente. Davanti al cancellone c'è uno spiazzo e una mattina cosa trovo? Trovo delle macerie, sono pezzi di cemento armato, roba abbastanza due sacchetti con dentro uno un sacco di cemento indurito e l'altro materiale elettrico. Il motivo di questo gesto non lo so, però avendo fatto questo gesto maleducato e molto vigliacco, evidentemente ce l'ha con me e con la mia famiglia. Stefano ha contattato più volte la Polizia Municipale e la Questura. La via non è sorvegliata e chi scarica i rifiuti lo fa evidentemente di notte. Anche l'amministrazione comunale è al corrente di quanto avviene alle porte della città e più volte il servizio di nettezza urbana si è preoccupato di raccogliere rifiuti scaricati incivilmente davanti a casa sua e anche poco lontano da via Santa Cristina, ma poi la storia si ripete. L'attività della Polizia Locale, in sinergia con il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune e linee a gestioni, volta a contrastare l'abbandono dei rifiuti, sta proseguendo. Sono state elevate sanzioni non solo per abbandono di rifiuti, ma anche per la non corretta differenziazione e l'irregolare esposizione della raccolta, multe che possono arrivare anche fino a 500-600 euro.